ciao ragazzi scusate per la voce sono raffreddato morto nella ricetta che sto per mettere adesso c'è stato un piccolo problema che mi sono perso l'azio iniziale la ricetta qual è? spaghettone con gli amberoni la parte iniziale è andare a soffriggere il peperoncino l'aglio e il campo di grezzemolo dopo aggiungo le teste dei gamberoni e dopo continuiamo la ricetta ecco qua guardate che spettacolo ci andiamo a mettere tre gamberi che ho tagliato due gamberi ce li lasciamo interi perché ci serviranno la guarnizione dopo lasciamo cuocere questi gamberi cinque minuti togliamo le teste l'acqua sta per bollire tra poco butto i spaghetti e ci rivediamo per l'assaggio guardate che spettacolo ciao anzi che vi devo dire spaghettone con il gamberone dobbiamo assaggiare c'è un profumo che vuol dire fa? ecco buonissimo sì ma provatela in grosso la pare gustosissima eccezionale un saluto da Pupi alla prossima io me la finisco ciao ciao